Piazza d'Italia ha ospitato ieri la quinta edizione della laurea in piazza con la proclamazione di 700 nuovi laureati, un evento che ha mostrato grande sensibilità verso il connubio ambiente e scienza. Di grande impatto la lexio dottoralis di Flavio Manzoni, il servizio è di Emanuele Floris. Per il quinto anno di fila Piazza d'Italia ha accolto ieri i nuovi laureati dell'Università di Sassari, ancora sotto la guida del Rettore Massimo Carpinelli. È invece la prima volta che l'evento si presenta completamente plastic-free, nel segno di un rispetto per l'ambiente ormai imprescindibile. Lo stesso Magnifico ne ha sottolineato l'importanza, invitando ad agire immediatamente per la salvaguardia del pianeta. Una grande notizia per la città, l'Ateneo e l'Isola. 5 milioni di investimenti porteranno alla nascita della Scuola Superiore di Sardegna, operazione resa possibile dai solidi bilanci dell'Università. Usate la vostra intelligenza per un futuro migliore e più umano per tutti, ha dichiarato il Rettore rivolgendosi agli oltre 700 neolaureati. Di particolare fascino l'intervento di Flavio Manzoni, designer di fama mondiale, insignito per l'occasione della laurea onore e scausa. Nella sua lezione dottoralis ha ripercorso le tappe della propria carriera, che da nuoro l'hanno portato a divenire il senior vice president of design Ferrari. Io vedo in me e che riscontro in me, anche in tanti sardi, la tenacia, la caparbietà. Chiamavano anche testardaggine, potrebbe essere detto in modo meno positivo, però credo che sia molto, molto importante. Quando c'è la forza di volontà il sardo sa veramente trovare la sua strada. E forse anche il fatto di nascere in un ambiente dove si sente, che ci sono dei confini anche un po' ristretti, porta a cercare anche altre esperienze. Questo però il sardo lo fa senza mai dimenticarsi quali sono le sue radici, come faccio io, perché il mio cuore e le mie radici sono in questa terra. E questo non lo dimentico mai ed è sempre presente in tutto quello che io faccio, perché di fatto mi sono formato in questa terra meravigliosa. Manzoni è stato anche il complice dell'intermezzo comico con l'associazione goliardica turritana che gli ha consegnato il compasso di plastica. Sotto una canicola appena mitigata da alcuni provvidenziali ventilatori ad acqua, gli studenti ricevuti alla pergamena si sono prestati al tradizionale lancio del tocco, accompagnati con un flash mob degli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa Centro Riunito. ...diversità degli studi di Sassari. ...ehhh... ...diversità di Sassari.